È stato presentato il cartellone degli eventi dedicati alla giornata della memoria dall'assessore alla cultura e al turismo Sabrina Di Cosimo. Si partirà il 25 gennaio alle ore 10 con la proiezione del film Corri Ragazzo Corri che si terrà all'auditorium della Biver in via Strinello 88. Il 26 gennaio ci sarà il concerto per il giorno della memoria alle ore 17 e 15 nel teatro comunale dell'Aquila organizzato all'istituzione sinfonica abruzzese. Si continuerà il 27 gennaio con la proiezione del docufilm Onna 1944 realizzato dall'Accademia dell'Immagine del 2004. Il programma andrà avanti fino al 31 gennaio con molti eventi riguardanti la poesia, il cinema e la musica. Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.comunel'aquila.it Questi poveri ebrei venivano non solo violentati o uccisi fisicamente ma violentati psicologicamente ritenuti una razza inferiore non si sa per quale motivo perché qualcuno all'improvviso decise che la razza ariana era quella principale e che quella degli ebrei dovesse appunto subire lo sterminio. Questa gente oltre a subire appunto le violenze vivevano allo stato brado proprio di animali e sapevano che la loro morte si sarebbe decisa un giorno o l'altro a seconda degli umori del singolo Gestapo, delle SS che in quel momento controllavano i vari campi di concentramento. L'apertura dei cancelli di Auschwitz, il famoso 27 gennaio 1945, portò alla storia, fece capire al mondo appunto la tragedia umana che si svolgeva lì dentro ogni giorno. Cose ovviamente raccapriccianti alle quali ci si crede solo nel momento in cui si vede quei posti, quei veri e propri lager. Il film, la cinematografia, la storia, i libri che ne hanno raccontato gli orrori non sono forse sufficienti a farne capire veramente il dramma. Però ripeto è importante non dimenticare. C'è una frase di Primo Levi che abbiamo utilizzato appunto proprio per la Locandina in cui appunto si dice che non bisogna dimenticare proprio perché questi problemi possono ritornare, possono essere occultate le nostre coscienze. Invece bisogna essere sempre vigili e avere rispetto per ogni essere umano, qualsiasi esso sia.